Craceffero è un passo dalla finale all'alba che è successo? si vede che sono nervoso si è nervoso, perchè? che è successo? che è successo? i portopallo ovviamente hanno sempre il solito gran culo 1 a 0 credo che si finisce 1 a 0, abbiamo perso, scusse di ciclo campagna arbitro indegno e adesso te la giochi al terzo posto e adesso te la gioco al terzo posto contro questo energumero qua davanti a me contro gli scrotoli sempre noi pronostico per questa finalina anche qui divertirsi faccio solo per la vergogna non lo senti per la vergogna di giocare contro gli scrotoli Ernesto Albanese è un onore giocare contro gli scrotoli gli nominati come? non lo sposti non c'entrano niente gli scrotoli anche qua c'è barbie un mio amico un momento tu non hai amici tu non hai amici tu non hai amici in questa partita gli scrotoli usciranno gli attributi vabbè su questo vabbè su questo vabbè chi vinca è migliore chi ha i migliori attributi in sto punto il grande migliore chi se ne frega vabbè più tardi più tardi cosa? cosa? ciao